Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi facciamo vedere delle polpettine di zucca, quinoa e lenticchie rosse davvero stagionali perché adesso inizia il pieno periodo della zucca. La quinoa e le lenticchie che andremo ad utilizzare sono del sito Anyway Bio. Vi mettiamo il link in descrizione, è un sito davvero molto carino dove c'è tantissima roba. E la prima cosa che andremo a fare quindi è pesarli e sciacquare la quinoa. Dopo aver sciacquato la quinoa andiamo a metterla in una pentola e aggiungiamo le lenticchie rosse. Come vedete mettiamo insieme lenticchie e quinoa perché più o meno avranno lo stesso tempo di cottura. Aggiungiamo una presa di sale e possiamo mettere l'acqua. A questo punto possiamo mettere sul fuoco e lasciamo cuocere circa 25 minuti coprendo con un coperchio. È arrivato il momento della zucca, quindi la andiamo a sbucciare e tagliare a cubetti. Io amo letteralmente la zucca, ormai penso che l'abbiate capito. Fatemi sapere a proposito se piace anche a voi e magari qual è il vostro piatto preferito, così mi date qualche suggerimento, qualche idea, dato che sta arrivando la stagione farò veramente una scorpacciata di zucca, già lo so. Come vi dicevo, basterà sbucciarla e tagliarla a pezzettoni. Io già l'ho fatto e adesso non mi rimane che mettere tutto quanto nella vaporiera, quella che uso per il microonde. Aggiungiamo un pochino di acqua. Chiudiamo e possiamo cuocere. Intanto le lenticchie, la quinoa, come vedete, si sono cotte benissimo. Facciamo giusto asciugare un altro pochino l'acqua in modo che le polpette verranno meglio e poi possiamo spegnere. La zucca è cotta, adesso non ci rimane che schiacciarla e io per fare prima e fare meglio utilizzo lo schiacciapatate. Come vedete, la zucca cotta al vapore rimane molto corposa e non prende troppa acqua. Guardate come sono diventate belle lenticchie e quinoa. Il bello della quinoa è che quando cuoce di più rilascia una sorta di cremina, diventa una cremina e quindi è perfetta se dovete fare queste cose, polpette, polpettoni, è davvero l'ideale. Adesso la andiamo a mettere insieme alla zucca. Andiamo ad aggiungere adesso curcuma e un pochino di aglio in polvere. Aggiungiamo un pochino di sale Un po' di olio d'oliva Iniziamo a mescolare. Guardate che meraviglia e anche che profumo! Buonissimo! Iniziamo a mettere il pane grattugiato, non lo vado a mettere tutto, mescolo e vedo quanto ne assorbe. La dose del pane grattugiato è sempre indicativa perché dipende da quanta acqua ha ancora la zucca, la quinoa e le lenticchie. Magari non è per tutti uguale, quindi anche voi mettetene un pochino e poi eventualmente aggiustate aggiungendone ancora. La consistenza, come vedete, è perfetta e adesso non ci rimane che fare le nostre polpettine. Io mi vado giusto in umidire un pochino le dita, in questo modo non mi si appiccicheranno alle mani e verranno perfette. Guardate che carine! Allora, ovviamente la forma la scegliete voi e gli do questa forma che somiglia un po' alle crocchette. E le mettiamo sulla teglia. Polpette pronte, guardate che belle che sono! Dato che ce lo chiedete sempre, queste polpette si possono congelare. Se volete farlo, fatelo in questo momento, quindi prima di cuocerle, le congelate da crude e una volta che vi serviranno, le andate a mettere in forno direttamente da congelate e le fate cuocere tranquillamente. Andiamo a infornare! Mettiamo a 180 gradi finché non saranno belle dorate. Le nostre polpettine di zucca, lenticchie rosse e quinoa sono pronte, guardate che belle! Sono venute stupende e, neanche a dirlo, sono squisite. Sono davvero molto molto buone perché sono delicate, ma al tempo stesso anche belle saporite, belle gustose e sfiziose. Appena uscite dal forno, come vedrete, saranno morbidissime, quindi prima di servirle e mangiarle vi consiglio di lasciarle intiepidire qualche minuto, giusto il tempo di dargli un po' di consistenza. Io vi ricordo il sito di Anyway View dove abbiamo preso la quinoa e le lenticchie rosse, ve lo linko sotto nella descrizione. Spero tanto che queste polpette vi siano piaciute, se è così mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!